Presentata nel bistro di Casa Sgarra Trani, la diciannovesima edizione di sogni nelle notti di mezz'estate. La manifestazione è promossa dalla strada dell'olio extravergine Castel del Monte per promuovere le città e le aziende, ma soprattutto per valorizzare il patrimonio e l'aio gastronomico pugliese, percorrendo la rotta che attraversa i comuni di Andria, Corato, Trani, Biceglie, Minervino, Murge, Canosa di Puglia e Barletta. Dalle cene sotto le stelle ai turi in barca e poi gli aperitivi al tramonto, le passeggiate guidate, senza dimenticare gli Evo Cocktail, novità di quest'anno, oltre agli Evo Menù e gli Evo Pizza. L'olio extravergine di oliva diventa un ingrediente, direi un elemento essenziale di caratterizzazione, ma lo fa come una sorta di metafora di un paniere gastronomico che la nostra terra è in grado di offrire. L'olio extravergine di oliva come una delle punte di diamante della nostra eccellenza enogastronomica e della eccellenza della ristorazione a tutti i livelli, dai bistrò ai ristoranti che si freggiano delle stelle, della stella Michelin. Con l'edizione 2023 torna anche il contest fotografico scatti d'olio. Abbiamo le diverse sezioni, così come ogni anno, quindi dedicate all'architettura, alla ruralità, al paesaggio e alla cucina. Quest'anno però in più si è aggiunta una nuova categoria che avrà la menzione speciale e fa riferimento alla foto più instagrammabile. Scatti d'olio comunque è un concorso al quale ci si può iscrivere gratuitamente. Per ricevere il regolamento è possibile contattarci sulle pagine Facebook, recapiti telefonici o indirizzi mail presenti poi sui vari canali di comunicazione della strada.